Brave and beautiful anticipazioni. Tassin è determinato a portare via sua figlia da Cesur, ma lei si rifiuta di lasciarlo. Suan soffrirà molto per la separazione da Cesur, dopo aver confermato la gravidanza e dopo tante domande. La giovane ha deciso di difendere il padre di suo figlio e vuoi dimostrare che è innocente nell'omicidio di Sali. Per chi non ha ancora visto il video che parla dell'omicidio di Sali, lascerò il link del video nei commenti. Suan dice a Tassin anche se abbiamo delle divergenze, non posso abbandonarlo in un momento così triste. Tuttavia, questo non sarà facile per lui, perché Tassin cercherà di nuovo di interferire con il suo piano. L'uomo traditore è disposto a separare sua figlia dal suo peggior nemico e farà del suo meglio per farlo. Non lascerò che ti rovini la vita. Mi assicurerò personalmente che questo bastardo passi i suoi giorni in prigione, ha detto. Però il pubblico ministero crederà che Cesur non avesse nulla a che fare con il crimine, ma le sue condizioni si erano deteriorate dopo la fuga. Cesur è scappato con l'aiuto di Suan dopo che la polizia ha trovato il corpo di Sali nel bagagliaio della sua auto. Suan non è consapevole che è stato proprio il suo padre a uccide Salin e a mettere il corpo dell'uomo all'interno dell'auto di Cesur. Dall'altra parte, il giudice può usare la sua fuga come prova della sua colpevolezza, ed è difficile per lui liberarsene, ha sentenziato Bano, che esaurisce le sue risorse per salvare la reputazione del suo migliore amico. Nel frattempo c'è Rizza che si diverte in vedere i suoi rivali cadere uno dopo l'altro. Cosa succederà da qui in poi? Per scoprire iscriviti al canale per non perdere le anticipazioni di Brave and Beautiful e molto altro.